L'ex provincia sempre più è ferricorti. L'Ars rimarrà chiusa fino al 13 settembre e la finanziaria BIS, che avrebbe dovuto stanziare 19 milioni, non potrà essere approvata prima di fine mese. L'assessore regionale agli enti locali punta il dito contro i parlamentari regionali, accusandoli di non aver approvato la legge ad agosto per capriccio e giochi politici. Intanto l'apertura delle scuole, gestite dai liberi consorsi, prevista per il 14 settembre, è a rischio nei comuni dell'isola. Il pericolo è che gli istituti accolgano gli studenti senza potergli garantire servizi essenziali come luce e acqua. A lanciare l'allarme, i presidi che nei mesi estivi hanno ricevuto lettere di diffida dai fornitori per i conti non pagati, che è riuscito a pagare le bollette, denuncia Maurizio Franzoli del regionale dell'Associazione dei Presidi al giornale di Sicilia, lo ha fatto utilizzando risorse di cassa destinate alla manutenzione ordinario alla didattica. E Franzò avvisa dalle pagine del quotidiano se i fornitori taglieranno luce e acqua si dovrà attivare l'avvocatura dello Stato. per denunciare l'interruzione del pubblico servizio. Anche i fondi per gli alunni disabili sono a rischio, genitori e associazioni sono già sul piede di guerra e minacciano una diffida nei confronti di Palazzo d'Orlean. L'assessore Lantieri attende a giorni un incontro con il presidente Crocetta nel tentativo di riuscire a sbloccare dei fondi in via amministrativa. La situazione sembra però senza uscita, a meno che non arrivi un aiuto dello Stato centrale, che fino ad ora ha escluso la Sicilia dai finanziamenti concessi alle ex province di altre regioni. L'assessore Lantieri attende a giorni un incontro con il presidente Crocetta